Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video speciale in cui andrò a testare la qualità video dell'elgato Game Capture HD che detta così sembra una cosa incredibile e strabiliante ma comunque è una scheda d'acquisizione che permette appunto di registrare video in alta definizione in realtà è fatta per registrare da console di nuova generazione ma io posso usarla, o beh non io, chiunque può usarla anche per registrare da PlayStation 2 ovviamente la qualità non può essere così tanto superiore a quella dell'Easy Cup perché la PlayStation 2 rimane quella non può avere una qualità superiore alle sue possibilità però di sicuro è un miglioramento qui si vede che sto gioco l'ho completato una sola volta e per questo lo stavo rifacendo appunto in realtà io l'ho preso più per il futuro perché magari un giorno prenderò la PlayStation 4 però anche per registrare da PlayStation 2 sono sicuro che renderà le cose migliori, almeno credo certo, aspetterò a voi dirmi come vi sembra la qualità video, a me devo dire sembra molto buona dopo tutto ci ho passato un giorno intero per capire come registrare al meglio tra Delgado e tra le impostazioni di Vegas Pro però adesso mi ritengo abbastanza soddisfatto comunque questo gioco per chi non l'avesse ancora capito è Prince of Persia e Due Troni ho registrato questo perché è il gioco a cui stavo giocando in questo periodo per semplice motivo che dato che a breve dopo Spyro ci farò il Warflow volevo rigiocarlo per ricordarmi com'è io l'ho completato una sola volta questa è la parte finale, tutto silenzioso perché ci stiamo avvicinando al boss finale ma questo non è l'argomento del video però quello che dovevo dire, ve l'ho detto, fatemi sapere come vi sembra la qualità di questa scheda d'acquisizione e io vi saluto mai, non continuare mai, stai zitta